A tre giorni dal voto, con grandi speranze da parte del Movimento 5 Stelle effettivamente, abbiamo incontrato Beppe Grillo, un'intervista che ha concesso alla RSI. Da questa intervista abbiamo estrapolato alcune parti, quelle relative al dibattito sulla futura Presidenza della Repubblica sono state superate naturalmente dai fatti di attualità di questi giorni. Non è superato il contenuto delle motivazioni e anche delle preoccupazioni, come diceva prima anche Aldo Sofia del Movimento 5 Stelle e in particolare del suo leader. Allora cominciamo con l'Italia che ha in mente, Beppe Grillo. Innanzitutto c'è questo modo di trattarci che bisogna smetterla perché siamo il primo partito in Italia, è inutile dire i grillini, questi dilettanti allo sbaraglio, coi due guru che si nascondono dietro il computer, è questa la fisionomia che esce dai giornali, che siamo così mezzi lì, che non sappiamo neanche cosa fare, abbiamo i titoli nelle prime pagine dei giornali se uno smarrisce le ricevute di 200 euro, hai visto questi qui sono come gli altri, noi siamo il primo partito. Avesse detto Bersani vogliamo governare insieme, insieme, la proposta doveva essere questa, governare insieme, non i nostri voti, i nostri voti non te li possiamo dare. Quale fiducia diamo a della gente che è mischiata nel Monte dei Paschi di Siena? Hanno una dirigenza da cambiare. Noi facciamo un sacco di battaglie, sono sicuro che facciamo un sacco di battaglie insieme a quelli del PD giovani, insieme al PDL di giovani, raccogliamo firme per l'acqua, contro le centrali, contro i biomasse o gli inceneritori, ci sono anche loro, è questa gente che deve andarsene. E la casta, la classe di agente è uscente? Ma no, ma non è neanche più casta, questa gente è disperata, più di forza della gente, è disperata, sa che questa è l'ultima occasione. Però sta resistendo? Sta resistendo, ma secondo me non sanno che sono seduti su una polveriera, su una polveriera, qui il lavoro si è azzerato, la piccola e media impresa che è l'ossatura, io sto parlando con gente che rappresenta 50, 60 mila aziende, artigiani, sono a settembre, loro dicono a settembre è finita, e allora noi dobbiamo fare un ragionamento, Berlusconi esiste perché esistono 9 milioni che l'hanno votato, è in dubbio, quindi il paese è spaccato, tra chi vuole galleggiare sulla crisi e non ha voglia di cambiare, o ha paura del cambiamento perché ha la sua pensione, oppure ha la doppia casa, li toglie l'Imu, ha paura del cambiamento. Noi siamo per il cambiamento totale, quindi rappresentiamo l'altra fascia, tieni presente che abbiamo più 65 anni che 20 anni oggi in Italia, stiamo andando sempre più a un'aspetta di vita più lunga, quindi è un invecchiamento totale, quindi abbiamo 20 milioni di pensionati, 4 milioni e mezzo di impiegati statali, e sono la metà della popolazione che una metà di questi votano Berlusconi per sopravvivere, e galleggiano, i prezzi vanno giù, i low cost galleggiano. L'altra parte è disperata, vera, cioè piccola e media impresa, giovani, esodati, gente che ha 500 euro al mese che non sopravvive, gente che perde la casa, il lavoro, la dignità, tutta questa fascia che è metà Italia, cerchiamo di rappresentarla a noi, che vuole un cambiamento. Noi siamo dentro con 163 parlamentari che sono lì a scrivere leggi, leggine, decreti, fare nelle commissioni, ma le commissioni sono bloccate, e bloccando le commissioni bloccano di fatto il Parlamento, che non si potrebbe fare. Di fatto c'è un governo, anche se limitato, e c'è anche un Parlamento che potrebbe domani mattina cambiare la legge elettorale, per esempio, perché abroghiamo il Porcellum e torniamo alla legge che c'era prima, si può fare domani mattina, se lei parla con qualsiasi giurista o costituzionalista le lo dice, può legiferare. Hanno bloccato il Parlamento perché vogliono continuare a rubare tempo, arrivare a settembre, preleggere una roba che se leggono uno di questi ci saranno le barricate, ma questo lo capisce anche un bambino. È un'Italia che vuole un cambiamento, è un'Italia che lo chiede in tempi anche rapidi, quindi c'è una forte pressione su di voi, lei che Italia ha in mente. Io ho un'Italia in mente fatta di giovani, come abbiamo messo, noi siamo la classe politica più giovane d'Europa, l'88% di quelli che sono entrati in Parlamento sono laureati, abbiamo un'alta percentuale di donne, una classe dirigente che rappresenta l'onestà, che non sia carriera perché due legislature poi tornano a casa, e trasparenza, professionalità, trasparenza e onestà, sono il nostro vessillo, tutto trasparente, vuoi spendere, metti in rete le ricevute, fai due legislature e torni a casa. Torni a lavorare. Guarda che questo movimento è francescano, noi abbiamo contatti, cominciamo ad avere contatti da tutto il mondo, le ambasciate di tutto il mondo vengono a vedere qua e ci interrogano su come sarà, vogliono sapere se siamo terroristi, capisci? Io vado anche sui giornali stranieri come il pericolo numero uno dell'Europa, ma ti sembra normale? Noi un pericolo. Noi che siamo quelli dei banchetti incensurati a chiedere la firma. Anche perché c'è una certa difficoltà a collocare il Movimento 5 Stelle rispetto ai movimenti populisti tradizionali, perché non è un movimento populista, è un movimento che ha caratteristiche diverse. Certo che c'è il leader anche in questo momento, quindi l'identificazione di un leader è molto forte. C'è un leader di garanzia, più che io controllo che siano incensurati, ho le fedine penali, quando loro vogliono fare una lista 5 Stelle col mio nome, io devo sapere chi entra? Quello sì. Allora quello sì, perché voglio sapere se sei incensurato o no, perché se hai dei precedenti non entri. se sei iscritto a un altro partito o movimento non entri. Io controllo queste cose di banali, di buonsenso, che sei residente dove vuoi andare a governare, che fai due legislature e poi te ne vai. Due e poi te ne vai. Se vieni eletto come sindaco, non è che dopo che sei eletto come sindaco ti candidi al Parlamento europeo, non lo puoi fare. Se sei candidato e eletto al Parlamento europeo, rimani lì, non che vai a fare il Presidente di Regione. Dopi, triplingarichi, vitalizi, soldi, ci siano diminuiti lo stipendo del 50%. E rimangono, ecco, questa è l'Italia, è la patria dell'ipocrisia e dello stupore. Lo stupore. Tanto si chiede chi me l'ha fatto fare. Ma me l'hanno fatto fare i miei figli che se ne andavano dall'Italia, me l'hanno fatto fare vedere la gente così disperata, me l'hanno fatto fare che in fondo io ho 40 anni di lavoro, potevo starmene nella mia villa, potevo starmene lì, e invece ho sentito proprio il desiderio di contraccambiare. E lei quando è in giro per l'Italia o quando è in giro per i friuli, come adesso trovo una carica di energia straordinaria anche in questa difficoltà che è veramente estrema in questo momento. Guardi, io parlo da 25 anni di queste cose, macchine a idrogeno, tecnologie, rifiuti, petrolio, quindi ho sempre fatto politica in un teatro a pagamento. Adesso faccio politica in una piazza gratuitamente. Do un po' del mio lavoro, della mia esperienza, della mia popolarità agli altri. E' così, ecco perché è una comunità al movimento. Quindi la benzina ce la offrono i benzinai, mangiamoci ospitano magari i gestori del bed and breakfast, andiamo in giro e ognuno aiuta, i palchi ce li montano gratuitamente, le luci, l'elettricista lo fa gratis, io vado sul palco gratuitamente, questo li spiazza. Ed è un movimento effettivamente anche nel quadro europeo assolutamente unico. da questo punto di vista. Assolutamente, ed è un format che si può esportare. Noi siamo un disinfettante, si sono già diminuiti le paghette, i politici, perché ci siamo noi. Vedi, siamo un organo di controllo, è disinfettante, dovrebbero ringraziarci, preserviamo la democrazia in questo paese. Dentro il movimento, in queste settimane, quindi dentro i militanti, dentro i parlamentari, o chi comunque è presente già anche in parte nelle istituzioni, cominciano a nascere qualche manumore rispetto alla tempistica, al fatto che comunque sembra succeda poco per quanto riguarda i particolari di una loro presa. alcune persone dicono allora cosa fate, cosa fate, un mese che siamo dentro, cosa fate, siamo bloccati con le commissioni, cosa fai. È chiaro che loro continuano, noi abbiamo già la legge per esempio per togliere l'Irap in tre anni alla piccola media impresa, fatta da un grande studio di amministrativo d'Italia, uno dei più grandi, non è che lo faccio io o cale dall'alto, abbiamo i professionisti, abbiamo i curriculum, scegliamo le persone per competenza, non siamo mica sproveduti, abbiamo già i decreti legge, i disegni di legge per la piccola media impresa, cioè il Made in Italy, togliere 50 miliardi di sprechi di gente che non lavora, di esodati che costano 50 miliardi, farli assumere dalle aziende gratuitamente, senza contributi e senza tasse, togli gente dalla strada, li fai lavorare, sono anche di buon senso, abbassare le tasse dal 71%, 71 tra indirette e dirette, alla media europea che è il 40%, cioè mantenere il Made in Italy veramente su le aziende che fanno il Made in Italy, non finte, tre quarti sono finte, cioè avere tutte queste considerazioni per la piccola media impresa, ti detasso perché qui la gente va in Slovenia o va in Austria, perché in Austria tre anni non paghi tasse, ti danno il terreno, costruisci la ditta, per tre anni non paghi tasse, se paghi tasse è il 25-27%, vogliamo che loro vengano qua. Il punto centrale è quello del lavoro, effettivamente in questa fase, bisogna ripensare i sindacati, le casse integrazioni, bisogna inserire un reddito di cittadinanza, quello che stiamo dicendo da meno un anno in campagna elettorale, il reddito di cittadinanza, ma si sono messi a ridere, Grillo lancia il reddito, bisogna vedere come lo fai, l'opinione pubblica deve cambiare, l'opinione pubblica, la gente deve svegliarsi, informarsi, andare a trovare altri criteri di informazione che non siano i tre giornali sotto la Confindustria, le banche e De Benedetti o le televisioni in mano ai politici, bene, se riesci a scoprire un altro canale, ma devi essere curioso tu cittadino, e poi agisci. E' la rivoluzione? Assolutamente, della conoscenza, questa gente oltre ad aver spolpato il paese e essere in televisione a dirci come dovremmo attuare i rimedi ai problemi che hanno creato questa classe dirigente da vent'anni che sono lì, questa gente è anche professionalmente scarsissima, sono dilettanti loro, se parli di energia, se parli di cos'è un inceneritore, di come trasformare le materie, di come produrre le cose con metà energia, col W per talis, il fattore 4, non sanno chi è Sachs, non sanno chi è Lester Brown, non sanno le grandi menti del mondo, di economia, confondono l'economia con la finanza, e su tutti gli economisti della Bocconi e della Lewis vanno in televisione a dire cose che un economista non si sognerebbe mai di dire, parlano di spread e lo spread ci hanno riempito di palle per dieci anni, non dieci anni, ma gli ultimi due anni lo spread, adesso non c'è il governo, non c'è il Parlamento, non c'è il Presidente, non c'è nulla, lo spread è felice, sta lì tranquillo, sotto i 300, la borsa è la migliore d'Europa, hanno fatto l'asta del BTP, è andata benissimo, quindi sono staccati dalla realtà, dovranno stare molto attenti perché finiranno i soldi, qui la battosta ce la darà l'economia, non ci saranno più soldi per le pensioni, quindi galleggiare, quelli che pensano di galleggiare non si galleggia più, e stipendi pubblici, quindi se non ci sono i soldi si comincerà a fermare l'Italia, se si ferma l'Italia, senza dare un segnale di fiducia, noi siamo la fiducia e la speranza, anche se c'è una crisi, ma tu vai lì e dici bene il Presidente della Repubblica costa 340 milioni, da adesso in poi ne costerà 100, se cominci a togliere i vitalizi, tripli incarichi, accorpi comuni, togli le province, cominci a dare un segnale dall'alto verso il basso e lo fai, anche se c'è crisi, allora la crisi la affronti perché i sacrifici li facciamo tutti, dall'alto al basso, ma se vai nel Limu, se vai nei bed and break a vedere il miele chi lo fa, se vai a vedere nei baretti di paese con la finanza, se cominci così il paese esplode, diamo un segno di fiducia, noi siamo la fiducia e siamo la speranza di questo paese, non abbiamo bacchette magiche, non ho mai, nella campagna che facciamo, nessuno dice che mettiamo a posto in breve tempo la situazione, siamo pieni di macerie, però i nostri padri erano pieni di macerie e hanno ricostruito il paese in un modo che se vedessero adesso non l'avrebbero secondo me fatto, però c'era questa sintonia tra la gente, noi dobbiamo trovare questa sintonia tra la gente, ricostruire un paese in macerie, non si può andare lì con questa rivoluzione meravigliosa, scusate, con questa rivoluzione meravigliosa, pacifica, e dopo tre anni senza soldi ci facciamo eleggere, con le elezioni, entrare dentro e non riuscire a fare niente, non ci fanno fare niente, la legge per i 40 miliardi alle piccole e medie imprese l'abbiamo presa, se non era per noi non si capiva che legge era, perché non c'era scritto piccola e medie imprese, c'era scritto banche, andavano i soldi alle banche, non alla piccola e medie imprese, quindi noi l'abbiamo letta in Parlamento, letta sul blog e dopo due giorni Grilli ha detto sì in effetti ci eravamo dimenticati questa piccola particolare di mettere le piccole e medie imprese, hai capito? allora ci mettono in un angolo, ma per quanto ci terranno in un angolo? Hanno occupato il Parlamento per leggere la Costituzione, cerchiamo di fare manifestazioni per dire alla gente guardate che bisogna aprire le commissioni, il Parlamento può legiferare domani mattina, ditelo, sappiatelo questo, lo stanno bloccando perché vogliono rubare tempo fino a settembre e poi a settembre vedremo e quando ci sarà un Presidente come questi qui che stanno dicendo è finita, è finito il Monte dei Paschi, sono finite le inchieste, sono finite, è finito Berlusconi tornerà di nuovo com'era perché li mettono per preservare la vita di quest'uomo che non si capisce cosa stia facendo, chi è, cosa fa, cioè per preservare di non mandarlo in galera, cioè ma è pazzesca questa roba qua, quindi tu come pensi di fermare la gente? noi non ce la faremo più, io le sto provando tutte, io sto canalizzando questa rabbia dentro il movimento, dico state calmi, dai che proviamo, abbiamo 160 parlamentari, dai strutturiamoci, fate una cosa, piccoli e medie imprese, ditemi quello, il vostro programma, lo mettiamo e lo inseriamo, facciamo un disegno di legge, sto cercando di convogliare queste forze, io che sono un comico, te mi hai detto prima chi me l'ha fatto fare, me l'ha fatto fare perché in fondo sono un patriota, mi sento di fare del patriottismo, di amare l'Italia, di non vederla così sconvolta e non vedere gente che piange tutti i giorni, tutto lì.